Polipo lessato su verdura e leggerezza Orogel con un'emulsione di condire per pesce e carni bianche. Una novità dell'azienda Orogel, polipo, verdura e leggerezza Orogel, prezzemolo tritato Orogel, condire per pesce e carni bianche Orogel. Innanzitutto bisogna che mettiamo lessare il polipo 40 minuti in acqua non salata ma con un piccolo accorgimento, un tappo di sughero. Il fatto che contenga tannino rende più tenero il polipo. Adesso prepariamo la base di verdura e leggerezza. Prendiamo lo scalogno e lo tagliamo a julienne. Padella antiaderente, olio extravergine di oliva, mettiamo a rosolare lo scalogno. Prendiamo le verdure a leggerezza, ancora surgelate. Le verdure a leggerezza è un mix di verdure molto interessante con carote, peperoni, broccoli, cavolfiori, fagiolini e cipolla. La caratteristica di questo prodotto è che una parte delle verdure sono scottate al vapore e un'altra parte alla griglia per armonizzare di più il sapore. Mettiamo sale e pepe. A parte prepariamo l'emulsione di condire per pesci e carni bianche. Prendiamo il cordire, aggiungiamo un pizzico di prezzemolo, sale e pepe e olio extravergine di oliva. Frustiamo leggermente. Prendiamo il polipo lessato. Il polipo una volta lessato l'abbiamo tolto alla pelle e lo tagliamo a pezzettoni piuttosto grossolani. La testa a rondelle e andiamo alla composizione del nostro piatto. I colori sono molto belli, vivaci. Mettiamo il condire alla base del nostro piatto. Avendo cura che tutti i colori siano belli in evidenza, prendiamo il polipo e condiamo con l'emulsione di condire per carni bianche e pesce. Alla fine prepareremo una rosa con un pomodoro in guarnizione. Togliamo solo la parte della buccia del pomodoro. Arrotoliamo con la parte lucida esterna. Una volta che abbiamo arrotelato sembrerà un bocciolo di rosa. Il nostro polipo su verdura e leggerezza sarà pronto per essere gustato. Grazie.